...136 sentenze, chiaramente adesso dobbiamo riconoscere le restanti e poiché questo lavoro diciamo complesso, un lavoro molto molto complicato che ha bisogno di tempo, noi come maggioranza abbiamo deciso di mettere agli atti un atto di indizio che adesso alleggerò. A ufficio di presenza del Consigliere dei Consigliere dei Corali che compongono la maggioranza di governo visto il parere dei collegi televisori la nota controduttiva prima del segretario generale del dottor Manganiello del Paolo visto che questa amministrazione ha iniziato da tempo e per la prima volta un lavoro di emissioni di debiti fuori bilanci accumulati nei piani dal comune di Casoria vista la difficoltà ad elaborare per tempo come iniziato tutte le proposte debiti fuori bilanci della sentenze danno indirizzo al dirigente dall'Apportatura di Finanze di prespondere entro e non entro il dicembre 2018 tutte le proposte debiti fuori bilanci al signor Amadorati presso l'ente. Io consiglio quest'atto all'ufficio di presidenza. Grazie, grazie consigliere Ferraro, prego di metterlo agli atti della delibera quindi prima che lo calmo, lo vediamo anche, allora un attimo su metto in voti l'atto di indirizzo così come letto dal consigliere Ferrara chi resta seduto approva, chi si alza, non approva, approvato ad un'unità dei presenti tutti i punti favorevoli e qui mi metto l'atto della delibera.